e adesso tocca a voi carissimi amici dei gemelli allora 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 vediamo che cosa dice questa settimana 21 27 agosto 2023 per voi dei gemelli vediamo quali sono le novità creiamo il caos alle carte allora sto usando questo mazzo ve lo dico subito perché ho un dito che mi fa male non riesco a mescolare le altre carte perché sono troppo morbide mi scappano dalle mani e ho preferito usare questo mazzo di carte allora per il segno dei gemelli dal 21 al 27 agosto 2023 quali sono le novità che deve sapere che cosa ci dicono le carte in merito a questo per il segno dei gemelli dal 21 al 27 agosto 2023 partiamo già con delle comunicazioni belle altine che vi fanno arrabbiare dove volete stare in un certo qual modo lontani che sia per un inganno che avete fatto che avete ricevuto che siano per notizie spiacevoli che date oppure che ricevete ok c'è un momento comunque di confusione ma non solo c'è un momento di confusione con il giusto modo di comunicare di parlare ci potrebbe essere comunque un miglioramento sia sul piano materiale che sia in tutti insomma in qualsiasi settore anche se poi vi sembra che un qualcosa non si concluda perché aspettate aspettate da diverso tempo volete la stabilità ma poi vi rendete conto che questa conclusione non c'è non va in porto 5 di bastoni rovesciato quale informazione vuole dare al segno dei gemelli dal 21 al 27 agosto 2023 questo qualcosa che vi fa rabbia è perché sono presenti dei delle difficoltà delle difficoltà sul vostro benessere fisico emotivo è come se ci fossero degli impedimenti dei blocchi e come se possono venire a galla situazioni cose fatti che vi portano maggiore chiarezza vi portano proprio ad arrabbiarvi a destabilizzarvi dove in un certo qual modo voi siete coinvolti nutrite una certa passione per una determinata situazione ok ecco perché le comunicazioni possono essere in merito a queste difficoltà anche un po' tese vediamo questo 5 di coppe rovesciato quale altra informazione vuol dare al segno dei gemelli dal 21 al 27 agosto 2023 ci potrebbe essere una terza persona di mezzo qualcuno che cerca di manipolarvi o che cerca di farvi stare lontani da una determinata situazione che sapete perfettamente che non è ancora definita una terza persona che cerca proprio di tenere bloccata questa situazione infatti ci sono come vi ho detto impedimenti e blocchi vediamo questo nome di coppe rovesciato quale altra informazione vuole dare al segno dei gemelli dal 21 al 27 agosto 2023 arrabbiati per una bugia per un inganno insoddisfatti allontanarsi da una determinata persona proprio in merito a questo cercare di superare questo genere di difficoltà per andare verso qualcosa comunque di positivo però vedo che in un certo qual modo arrivano anche delle ottime notizie potrebbe essere un ritorno che arriva per voi o voi eventualmente nel vostro momento di confusione ritornare il pensiero di ritornare da qualcuno vediamo questo 5 di denari rovesciato quale altra informazione vuole dare al segno dei gemelli dal 21 al 27 agosto 2023 diciamo che tutto sommato questa confusione comunque anche se questa confusione poi è che ci porta a chiudervi in voi stessi ma da una parte vi fa anche bene perché è vero che c'è un qualcosa che magari possa cambiare al negativo ok ma è anche vero ci possono essere delle notizie in arrivo in merito a quello che il vostro trionfo perché qui c'è una collaborazione non è una collaborazione diciamo che vi porti chissà da cosa ma almeno l'inizio di un trionfo c'è perché come vi ho detto ci sono delle comunicazioni comunicare con qualcuno nel giusto modo vi porta a migliorare una determinata situazione andiamo a vedere questo 7 di bastoni quale altra informazione vuole darci il fatto che c'è qualcosa questa settimana che non va in porto che diventa inconcludente o che almeno in questa settimana non si conclude come vorreste voi vi porta o a una confusione oppure ad avere dei dubbi delle difficoltà e come se vi sentiste delusi o voi deludete comunque sia qualcuno e cercherete di poter comunicare di parlare per rimettere in piedi comunque qualcosa che possa andare avanti per un futuro quindi qui ci lavorate tanto per cercare di rimediare a una situazione vediamo come si andrà a concludere questa settimana per il segno dei gemelli dal 21 al 27 agosto 2023 pensate al vostro futuro con armonia con stabilità con qualcosa di bello nonostante tutto ci possono essere delle difficoltà nonostante tutto ci possono essere magari delle comunicazioni delle comunicazioni che non vi piacciono ma ci pensate tanto a quelle che sono le novità belle ok magari a un ritorno o a un ritornare a ripristinare e a sistemare una determinata situazione per qualcuno di voi solo per qualcuno di voi è come se attendeste delle notizie da qualcuno notizie che non arrivano dove volete comunque una certa armonia una certa stabilità per altri invece di voi ci può essere un nuovo incontro che vi porterete avanti e questo nuovo incontro parte comunque con quelle piccole difficoltà o perché magari la persona impegnata o perché magari c'è ha delle difficoltà la persona stessa o voi avete delle difficoltà ma c'è comunque un qualcuno che potreste andare a incontrare io vi ringrazio carissimi amici dei gemelli ci sentiamo presto vi auguro una buona serata e a presto grazie grazie grazie